Ha superato il 75% la quota di popolazione in provincia di Salerno vaccinata almeno con una dose. È infatti di 1.500.000 il totale delle somministrazioni effettuate dall'Asla divise tra 800.000 prime dosi e 700.000 seconde dosi, come reso noto questa mattina nel consueto bilancio illustrato dalla responsabile Asla Area Covid, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi. 100.000 di queste dosi riguardano ragazzi tra i 12 e i 18 anni ed è di 1.500 il totale che riguarda già le terze dosi. È il segnale che siamo sulla buona strada, ha dichiarato Saggese, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Questo è il segnale che siamo sulla strada buona, però non dobbiamo abbassare nulla, non possiamo fermarci. Abbiamo bisogno di fare, ormai siamo tranquillamente al 75% della popolazione residente nella provincia di Salerno, nella città di Salerno siamo molto più in alto. Abbiamo quasi il 99%, abbiamo completato quello che era il famoso immunità di gregge. Non è sufficiente, dobbiamo riuscire a fare un altro 5%, 6% e dobbiamo ricominciare a fare le terze dosi, le dosi aggiuntive, a partire dalle persone più anziane. Siamo già partiti nell'RSA, lo stiamo facendo nell'RSA. Stiamo invitando tutti gli ottandenni a recarsi verso i nostri centri vaccinali che sono tutti aperti. Basta vedere anche sul sito dell'AS gli orari. Non c'è bisogno di prenotazioni, non c'è bisogno di presentarsi e fare l'altra dose. Abbiamo iniziato, iniziamo a fare queste dosi a tutti quelli che hanno fatto da più di sei mesi le dosi che lavorano nel mondo della sanità, nel mondo degli esposti principalmente. E penso che in prospettiva faremo le dosi booster dopo sei mesi a tutte le persone che hanno già fatto la seconda dose. Però mi raccomando, chi non ha fatto la prima, fate questa considerazione. Iniziamo a proteggere meglio chi si è già vaccinato, è stato protetto, ci ha aiutato ad arrivare a questo, che è rimasto fuori, corresse a farsi la prima dose per continuare a farla. E' lo strumento che ci ha permesso di respirare, in questo momento stiamo respirando. Diamoci una mano ancora, andando avanti molto bene. E l'effetto lo vediamo, cioè nelle scuole si è ripreso, è mai un mese che abbiamo ripreso le scuole, sì c'è qualche caso ogni tanto, però il clima complessivo, la fiducia complessiva, le mamme sono più tranquille, si è ripreso la scuola. Poi quando succede qualche caso c'è un attimo di allarme, si chiude lo stretto necessario, si chiude, si delimita lo stretto necessario, però si è ripresa la scuola, si è ripresa l'università, è un piacere vedere i ragazzi che li cominciano a frequentare. Sta riprendendo il percorso. Ok.